Buongiorno, 7.05 lunedì 23 ottobre, bentornati a una nuova settimana, un nuovo appuntamento qui su Cristal Radio in compagnia di Good Morning Milano, in diretta dagli studi di Milano All News in quel di San Siro. No, non lo sto facendo star zitto, non ho iniziato io tenendo buono e zitto il mio compagno Lorenzo Masieri, ma oggi non c'è. Il Covid, altro che non ce n'è di Covid, ce n'è e come il buon Masieri è rimasto vittima in questo momento e quindi è a casa, che sicuramente non ci starà ascoltando, conoscendolo. Sicuramente non ci sta ascoltando, ma forse per il GR delle ore 12, forse riuscirà ad ascoltare qualcosa su Cristal Radio. Invece, a differenza sua, voi tutti altri siete all'ascolto di questa mattina, di questo punto lunedì che inizia la nuova settimana di fine ottobre, superata ormai la metà di ottobre, siamo già verso il novembre, c'è gente che ormai dice Beh, ormai è Natale, insomma stiamo calmi, manca ancora un mese e mezzo, quindi stiamo tranquilli, praticamente due mesi anzi. Sa di fatto che, come vi dicevo appunto, oggi sono qui da solo e quindi ho bisogno di tutto il vostro aiuto. 331-78-535-55, il numero di Whatsapp a cui potete scriverci, mandarci foto, video, colazioni, imprese che avete fatto nel weekend, racconti di come è andato il vostro weekend, oppure dirci come sta andando questa mattinata. Mattinata che inizia subito, ovviamente, con la musica, perché qui è quello che facciamo tutti i giorni qui in diretta su Cristal Radio e ora con Coez Fra Quintale. Che colpa ne ho? E che ne sappiamo di noi? Che colpa ne ho? Fra Quintale, Coez, alle 7 e 10 minuti in diretta su Cristal Radio e ben ritrovati appunto a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. 331-78-535-55, il nostro modo di Whatsapp, già arrivano i primi Whatsapp, grazie dell'aiuto perché stamattina ho bisogno che voi facciate il secondo, no? Facciate, anzi, i protagonisti di questa trasmissione, diventiate voi così che io possa in mezzo fare un po' il mio compito da vigile urbano, tra notizie, controllore del traffico e delle notizie, no? Faccio tra notizie, musica, appuntamenti, comunque avremo Filippo Poletti anche più tardi che ci parlerà di lavoro. Grazie appunto a Alberto che ci scrive un saluto a Fabio e a tutti gli ascoltatori di Cristal Radio, buona settimana e poi auguri di pronta guarigione a Lorenzo. Sì, glielo facciamo, glielo facciamo, ma sicuramente in questo momento non ci starà ascoltando, lo sappiamo che starà bellamente al calduccio nel suo letto. Magari provo a chiamarlo, ma tanto so che non mette il silenzioso, quindi non riesco neanche volendo a tirarlo giù dal letto, però se volete lo faccio, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, ditemi se volete facciamo proprio i bastardelli, lo tiriamo giù dal letto così, alle 7 e 10 lo tiriamo giù dal letto come se niente fosse. Magari si è svegliato, sapete che c'è la sveglia biologica, che uno si sveglia nonostante tutte le mattine, a me succede anche nel sabato, sabato mattina mi sveglio allo stesso orario di quando devo venire a fare la radio, poi ovviamente mi giro dall'altra parte e torno a dormire tranquillamente fino alla tarda mattinata quando si può, quando non ci sono suocere da portare all'Ikea, quando non ci sono mogli da aiutare perché stanno sistemando l'armadio, quando non ci sono altre attività casalinghe da fare, giustamente bisogna dare una mano e quindi magari non ci si può girare così tanto e stare lì a dormire così tanto. Le notizie arrivano poi, le leggo, le leggo e le ho trovate già, quindi dopo vi aggiorno. Vi aggiorno anche sul meteo perché oggi insomma giornata dove i due colossi, diciamo così, del meteo online sono abbastanza d'accordo tranne che su una cosa. Allora non dovrebbe piovere tutta la giornata, ma verso sera dovrebbe arrivare la pioggia. Uno dei due siti dice che arriva intorno alle 22, l'altro già alle 19. Allora dico quello delle 22 che se hanno ragione loro grazie, ma con le 19 io ho cancellato la partita di padel. Avevo la partita di padel alle 19, l'ho cancellata perché veniva a piovere e il campo era l'aperto. Quindi speriamo che abbiano ragione quelli delle 19, così almeno vabbè ho buttato via. Non vado a giocare ma comunque c'è un motivo, una motivazione reale. Sta di fatto che cosa succederà oggi? Oggi succederà che avremo una giornata più o meno nuvolosa con però un po' di sole. Temperature che non arriveranno a toccare i 20 gradi perché la massima sia su un sito che sull'altro me la danno a 18,5-19 gradi massimo. Quindi abbiamo un 19 gradi intorno alle 4 del pomeriggio con appunto cielo leggermente coperto e con qualche raggio di sole che può bucare le nuvole. E poi appunto verso sera dovrebbe arrivare la pioggia, tra le 7 e le 10 arriva la pioggia, così stiamo un po' larghi. Sapete è sempre più difficile fare le previsioni nel tempo, non sono l'unico che lo dice. Tutti quanti dicono che è sempre più difficile fare le previsioni nel tempo perché con il suo riscaldamento climatico, con i cambiamenti climatici, tutto ciò che sapevamo della meteorologia viene messo un po' in discussione. Non c'è invece discussione da fare sul traffico perché quello c'è sempre e ce lo racconta Luce Verde. E hannoci sull'uomo ragno, 8-8-3 alle 7 e 20, no 7 e 18, scusate, 7 e 18 minuti qui su Crystal Radio. Iniziamo un po' così scartabellando qua e là i siti di informazione, cosa dicono le prime pagine dei giornali, ma allora raccontiamo un po' quello che è successo anche diciamo nel weekend, nelle nostre varie giornate. Sabato, sabato c'è stata la prima edizione di Mille Mila Bici, che è stata questa appunto biciclettata, pedalata, organizzata da Lega Ambiente e Milano in bicicletta, 16 chilometri, 16 chilometri per le vie di Milano. Sta facendo il giro del web, il giro dei giornali, la foto di tutte le biciclette sul cavalcavia Monteceneri, quello appunto cavalcavia Bacula, Monteceneri, da parte ovest della città, sopra Viale Certosa per intenderci, con tutte queste biciclette che appunto stanno andando in direzione verso, diciamo, la Bovisa, per intenderci, e che hanno occupato, ma era prevedibile, nel senso era previsto, scusate, era previsto dalla manifestazione appunto, con tutte queste età, tantissime biciclette, il Milano Repubblica dice prima edizione di Mille Mila Bici, oggi a Milano, cioè oggi ieri, cioè che era la domenica, una grande pedalata cittadina gratuita, aperta a tutte le età, le abilità e i generi per ribadire le necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti, organizzata legambiente e Milano in bicicletta, ovviamente grande applauso anche dalla, dall'amministrazione comunale, insomma, tutto, tutti quanti felici e contenti, arriva partenza in piazza del Cannone, ma poi si è andata giù verso piazza Giulio Cesare, via le Scarampo appunto, cavalcavia Monteceneri Bacula, piazzale Loreto, e chiudeva con Corso Buenos Aires, piazza della Repubblica, poi bastione di Portavenezia e di Portavolta e di nuovo dentro nel parco Sempione, tante tante appunto, mi hanno detto più che mille, 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 mila bici, mille milioni, come diceva qualcuno, mille, mila bici e, insomma, se serve tutto questo a far parlare del tema, a tornare sul tema della sicurezza e tutto, ben venga. Non è così semplice perché, appunto, nella notte, ad esempio, altra notizia che leggiamo sempre da Milano Repubblica, investito nella notte a Milano da un'auto che viaggiava a forte velocità, gravissimo, un 26enne l'incidente, poco prima delle tre in via Chiesa Rossa, il conducente dell'auto, un 22enne, si è fermato a prestare soccorso e ha detto, non l'ho visto. Attenzione perché a volte è anche così, davvero, nel senso che non è solo, qui c'è anche un discorso di velocità alta, così dice il giornale. Ma è vero anche che a volte le strade non sono abbastanza illuminate giuste, non sono abbastanza correttamente segnalate gli svincoli, le auto in sosta spesso e volentieri bloccano la visuale, impediscono di vedere, i camion sono grossi, se girano hanno i punti ciechi, gli angoli morti, gli autobus anche, insomma, è un problema per tutti. In questo caso, appunto, parliamo di un pedone, non era neanche a, non era neanche bicicletta, quindi, insomma, una, infatti sì sì, in direzione lungo Naviglia, lungo Naviglio Pavese, appunto, Chiesa Rossa, alle 2.45 avviene questo, questo, questo incidente che veramente, veramente lascia, appunto, gravissimo, gravissimo, un 26enne sull'asfalto di via Chiesa Rossa. Un problema rimane, dicevo, il problema persiste, ben vengono le mille mila vici che portano comunque ad accendere i riflettori sul tema, bisognerebbe incominciare a pensarlo, però anche, magari più strutturalmente, e vedremo, infatti, e sappiamo che, insomma, il comune si sta muovendo, sta cercando di capire come fare, ma gli interessi in gioco sono veramente tanti. Mr. Rain, supereroi, 7, 30 minuti, 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, il nostro numero di Whatsapp a cui potete scrivere quello che volete e mandarci anche foto, audio, filmati, racconti del vostro weekend, ad esempio, essendo oggi un lunedì, e potete fare anche come ha fatto, ad esempio Katia, che appunto ci ha scritto al 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, e ci scrive buongiorno a tutti, il risveglio con voi è migliore, anche se comunque lunedì, ebbene sì, è lunedì, e chi responsabilità, cari miei, chi responsabilità, come sempre, anzi vi ringrazio, come sempre, per farci, lo parlo anche a nome del mio compare che oggi non c'è per motivi di salute, ma sicuramente tornerà nei prossimi giorni, vi ringrazio davvero tantissimo perché tutti i giorni voi ci fate entrare nella vostra routine e sappiamo per quanti di voi è fondamentale e sacra la routine del mattino, anzi, sappiamo anche di ascoltatori che siamo, per cui siamo gli unici che possono parlare prima delle 9 del mattino, sappiamo che per alcuni ascoltatori siamo gli unici che possono parlare e parlare a loro prima delle 9 del mattino, e allora vi ringraziamo ancora di più. 7 e 32 minuti, continuiamo con le notizie che arrivano dai giornali, passiamo sull'altra sponda del naviglio, parlando di informazioni, abbiamo letto Milano Repubblica prima, adesso invece passiamo a Corriere della Sera Milano, c'è il tema della sicurezza, il tema della sicurezza sappiamo che è molto in auge in questo momento, soprattutto perché a Milano quando si parla sicurezza, ahimè, non parla Minino, Ciccino, Pippino, no, parlano sempre gente, un minimo comunque i VIP, diciamo, chiamiamoli così, ed è il caso ad esempio in questo momento di Eleonore Casalegno, Eleonore Casalegno che dice il Corriere della Sera, un virgolettato appunto della Casalegno, che dice io inseguita in centro a Milano da uno squilibrato, questa città è diventata indivibile. la conduttrice televisiva racconta di essere stata inseguita e assalita domenica mattina intorno alle 11 in corso di Porta Nuova, lo sconosciuto messo in fuga da un passante, l'appello che parte dalla Casalegno verso il sindaco Sala chiede più sicurezza e sul tema, sul tema appunto sicurezza, anche l'altra parte, torniamo a leggere Repubblica, dice la sicurezza e le denunce delle ragazze su TikTok, ecco cosa sta succedendo a Milano, stanno circolando in questi giorni alcuni video sui social di ragazze che denunciano il problema sicurezza a Milano, una questione senz'altro centrale in questo periodo, se è vero che i reati più tradizionali come le rapine in banca e i furti in casa sono in forte diminuzione è altrettanto vero, dice Repubblica, che crescono i reati cosiddetti predatori, quelli che compongono la galassia della microcriminalità di strada che è cresciuta, si è estesa e si è evoluta. Poi continua dicendo che la stragrande maggioranza delle attività delle forze dell'ordine e di polizia proprio è volta al contrasto a questa microcriminalità che è sì micro ma è molto molto diffusa. Poi aggiunge che non è più un solo un tema di percezione di insicurezza, il problema c'è, i dati lo confermono. Ecco, su questa frase, sul fatto che i dati lo confermino, ahimè, è qui che si avre tutto il grande problema, perché i dati in realtà sono molto vari e andrebbero letti e in base, ahimè, a chi li legge si tira fuori un dato o l'altro. Sicuramente l'altro dato è innegabile e lo dice anche Repubblica, è innegabile come certi episodi milanesi, però, abbiano una certa sovraesposizione mediatica. Quel che accade a Milano è più amplificato, ha un'eco diversa rispetto ad altri contesti, quindi c'è anche da pensare in questo tema. Milano fa sempre sicuramente più notizia. Marco Mengoni insieme a Franco, 126, un'altra storia, 7,37 minuti e infatti anche noi passiamo a raccontarvi un'altra storia o meglio a leggervi un'altra notizia da Corriere della Sera a Milano, ci ricordiamo che, cioè ci ricorda il Corriere della Sera che da ieri, da ieri domenica 22 ottobre, termosifoni accesi o meglio, se volete, non siete costratti ad accenderli. Temperatura massima impostata sui 19 gradi con una tolleranza di 2 gradi, quindi in realtà si può arrivare fino a 21, cioè la verità è questa, e se volete sapere chi viene in casa vostra con un termometro a controllare la temperatura e 13 ore al giorno di accensione massima. Ovviamente si possono accendere appunto tra le 5 del mattino e le 11 di sera, deroghe, cosa ovviamente per ospedali, asidi, i piscine. Vabbè, questo mi piace il titolo, ho voluto fare questo a fondo sul fatto che le piscine possano accendere i riscaldamenti più ore con diversi temperature. Comunque, l'ordinanza del Comune che appunto prevede l'accensione o comunque diciamo dà la possibilità di accendere i riscaldamenti nella giornata di ieri, rimane in vigore fino all'8 di aprile quando invece si starà all'ordine di spegnimento, quindi il spegnimento l'8 di aprile, vedremo se poi magari verrà anticipato, verrà già quest'anno, infatti pensate, di solito canonicamente si accendono il 15 di ottobre, quest'anno si è spostato fino al 22 di ottobre, vedremo appunto se poi magari la spegnimento che di solito è impostato per il 15 di aprile, ma quest'anno è stato già anticipato all'8 di aprile, potrebbe essere che venga anticipato. Io personalmente non ho acceso riscaldamenti da nessuna parte, né in casa, né qui in radio, né qui negli studi di Milano All News. Voi cosa avete fatto? 33178-53555. Ci ascoltate da Milano, ci ascoltate da altre parti, come funziona? So che c'è gente che ci ascolta da lontanissimo, che secondo me mai accenderà il riscaldamento, sto parlando della zona della Puglia, quindi secondo me qui lì manco li accendono tutto l'anno, cioè secondo me è così, giusto giusto, uno scaldotto magari la mattina nelle fredde giornate di febbraio, ma secondo me siamo ormai arrivati a un livello per cui veramente anche a Milano, guardate, ci sono situazioni in cui l'anno scorso ad esempio mi ricordo qua in radio abbiamo acceso intorno alla metà di novembre e in casa stoici, siamo rimasti fino ai primi di dicembre, però effettivamente faceva un po' freschino. Vi ricordo anche che se avete un po' freschino basta mettersi su una felpa in più, un pantalone in più, una calza proprio pesante e si riesce a combattere. Non andiamo in piazza a fare tutte le manifestazioni contro il climate, cioè a favore delle politiche per mitigare il climate change, contro il riscaldamento globale e tutto e poi dopo 22 di ottobre ci danno l'ok, trac, accendiamo subito a 25 gradi la nostra caldaia di casa. Ecco magari cerchiamo un minimo anche noi di essere coerenti in quello che spesso e volentieri si cerca di fare. Ricordiamoci che anche comunque non è solo un compito nostro ma anche delle istituzioni, delle industrie, di coloro insomma il turiscaldamento di casa forse sì contribuisce a tutta una serie di problematiche ma non così tanto. Sul tema tra parentesi c'è sempre su Repubblica in questo caso un articolo che dice che il 70% delle case dei milanesi, al 70% di queste case serve una riqualificazione energetica. Sono praticamente tutti quei palazzi costruiti tra gli anni 50 e gli anni 80. Pensate che per adeguare gli impianti alle norme europee che stanno appunto arrivando pian pianino sugli edifici green e tutto quello che appunto ha a che fare con il climate change e per le case moderne servirebbero oltre 20 miliardi di euro. Non è una cifra facile tra parentesi tra queste molte case non sono case di privati ma sono case dell'edilizia popolare, dell'edilizia residenziale pubblica. Ed eccoci tornati, 7 e 44 minuti così arriviamo di colpo perché è lunedì, lunedì si parla di lavoro, lo sapete no? Parliamo sempre di lavoro, lo facciamo con chi? Lo facciamo insieme a Filippo Poletti, top voice di LinkedIn che anche quest'oggi ci augura il suo buon lavoro oggi lunedì 23 ottobre, il buon lavoro di Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è obiettivi. Addio al cartellino chiede Matilde Mirandola, presidente dell'EDP, l'associazione italiana per la direzione del personale con sede a Milano. Il processo di revisione del paradigma orari luoghi di lavoro è già avviato. Serve ora, dice Mirandola, sviluppare una competenza in modo ampio, ossia la fiducia. Possiamo lavorare per obiettivi, possiamo lavorare per responsabilità e possiamo lavorare diciamo noi di buon lavoro facendo nostra la lezione della pandemia in cui tanti hanno lavorato da remoto con fiducia reciproca. La seconda parola chiave della settimana è empatia. Il vero capo è chi sa capire chi ha di fronte, lo dice Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana. Lo sappiamo, ci sono tanti stili di leadership. Claudia Parzani ci parla della leadership situazionale, ossia della leadership che sa adattarsi alle persone che si hanno di fronte alle sfide, agli impegni. E da Parzani una bella ulteriore lezione. Nei CV, dice lei, guardo l'impegno sociale. Cioè amo i CV che sanno mixare il terzo settore con il business. Terza e ultima parola chiave della settimana è ingegneria. Festeggiano da Milano Maire Techni Mont e sai che festeggiano la ragione, anzi da Abu Dhabi. Sì perché Maire ha ricevuto una commessa per realizzare opere sulla terraferma da 8,7 miliardi di dollari e Saipen ha ricevuto per realizzare opere sulle piattaforme da 4,1 miliardi di dollari. Insomma grande festa nelle sedi milanesi di Maire e Saipen. Pensate un po', nel nome Maire ci sono i nomi di due figli del presidente Fabrizio di Amato, rispettivamente Massimo e Irene. Maire è un acronimo. Insomma al centro del Made in Italy ci sono le persone e il Made in Italy, festeggiamo oggi, è anche appunto ingegneria di cui essere fieri e orgogliosi. Buon lavoro a tutti! Ed è New Order, New Order con Blue Monday alle 7.51 minuti. È un Blue Monday per voi? No dai vabbè insomma, un Blue Monday al 23 ottobre non credo. Adesso non so, poi dobbiamo andare a vedere effettivamente quando è il Blue Monday di quest'anno perché non me lo ricordo. Il Blue Monday è stato, è stato, è stato, è stato. Se si chiamano Blue Monday su internet viene fuori Blue Monday di New Order, la canzone, per fortuna. È il 15 gennaio nel 2024 il Blue Monday, quindi lunedì 15 gennaio sarà appunto il Blue Monday. Oggi invece non è Blue Monday, anzi ringraziamo ancora Filippo Poletti per il buon lavoro che ci ha augurato e anche le buone notizie sul lavoro, cioè interessanti, molto interessanti. È interessante quella cosa del CV con le parte sociale, cioè se voi mettete nel vostro CV le vostre esperienze nel terzo settore, da alcuni vengono viste meglio. È interessante, interessante. Poi magari approfondiremo il tema. 331, 331 appunto, ripeto, 331 7853555. Il nostro numero di Whatsapp a cui potete scriverci per raccontarci quello che state facendo. Abbiamo parlato appunto di termosifoni che si possono finalmente accendere da ieri, ma quel finalmente in realtà non è poi così finalmente, nel senso che insomma non fa così freddo ancora da poter accendere i riscaldamenti o da volere accendere i riscaldamenti, quindi anzi ci auguriamo che magari i milanesi siano un po' più attenti al tema climatico e magari quest'anno insomma posticipino ancora un pochino l'accensione, nonostante questo weekend un po' fresco e soprattutto soprattutto tanto tanto umido, insomma c'è tutto bagnato in giro, un casino, acqua ovunque ma per fortuna niente bombe d'acqua, solo pioggia normale. Quest'oggi la pioggia dovrebbe ancora fare capolino in città ma verso la tarda, tarda pomeriggio, cioè verso sera diciamo. Orario aperitivo, ecco se avete un aperitivo in programma cercate di farlo sotto una tettoglia che forse è meglio. Ci sentiamo fra poco, adesso diamo anche la linea GR e noi ritorniamo dopo le otto appunto qui su Cristal Radio. Bigis Stayin'Alive 8.08 lunedì 23 ottobre, ben tornati nella seconda ora di Good Morning Milano qui su Cristal Radio in diretta dagli studi di Milano All News in quel di San Siro e da San Siro ci spostiamo dalla parte opposta della città, ci spostiamo nel Municipio 4 perché al telefono con noi in questo momento, Davide Borghi, consigliere municipale del Municipio 4. Buongiorno Davide. Ciao, ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Grazie mille di essere qui con noi, ti abbiamo contattato e ci siamo messi d'accordo appunto per sentirci questa mattina perché nel vostro municipio, insomma, settimana di mobilizzazione popolare, manifestazioni in strada perché è arrivata la metropolitana ma questa ha fatto un po' rivedere tutto il sistema della mobilità di superficie e i cittadini dicono no, ci sono delle cose che non tornano e non vanno bene, giusto? Certo, sì, allora guarda, io vorrei fare una premessa importante, noi ci battiamo con i cittadini, cioè noi vogliamo quelle modifiche che hanno chiesto, che hanno chiesto loro la settimana, che abbiamo chiesto noi a luglio e che continuiamo a chiedere, cioè siamo consapevoli che il percorso sia in salita ma è giusto continuare a batterci come maggioranza di Municipio 4, come il partito democratico in questo caso mio di Municipio 4 perché noi rappresentiamo la città, quindi è inevitabile come noi siamo con loro, ecco, questa è l'importanza da dire. Ecco, nonostante coloro che ha cambiato il TPL in realtà sono i vostri colleghi al Comune, cioè la stessa maggioranza che compone anche, quindi insomma, un po' di… Sì, sì, sicuramente c'è dell'incorrenza, posso dire che il Municipio e il Comune poi sono due ambiti diversi, il Municipio non fa modifiche al TPL, al trasporto pubblico locale e quindi nonostante ci sia poi nella stessa maggioranza, spesso si prendono strade diverse, ecco, però noi siamo convinti che la strada sia quella di rivedere alcune modifiche oltre alla linea della 73, su cui intanto si sono battuti i cittadini nell'ultima settimana, noi chiediamo anche di rivedere le modifiche ad esempio alla 45 e la 66 nell'intescambio che prima c'era in Pezzalo Video, piuttosto che a rivedere i percorsi sulle linee 77 e 84 come erano prima del 4 luglio, quindi c'è una visione di Municipio complessiva, noi abbiamo più o meno 160 mila abitanti, non possiamo pensare di concentrarci solo su un'artera comunque importante che è quella di Corsica, 22 marzo, Forza Vittoria, però chiaramente il lavoro viene fatto anche su quello. E allora, cerchiamo di snocciolare un po' le questioni che i cittadini hanno messo sul piatto e soprattutto, tu dicevi già voi da luglio avete fatto comunque presente che saremmo arrivati a questo punto in un certo senso, no? Sì, noi in realtà, allora, è evidente che non è stato fatto dall'oggi al domani la modifica su tutto il TPL a livello di attenzione di città di Milano, perché poi non siamo coinvolti solo noi, cioè c'è anche Municipio 3, ad esempio quella della 54, la 61, quindi non ci siamo solo noi, però, e questo per contestualizzare, i vari problemi si sono verificati inevitabilmente da luglio, quando M4 è arrivata fino a San Babila alla maggio e quindi progressivamente anche ATM ha rivisto gli orari degli autisti e delle autiste per appunto non avere più la linea 73 che collegava Inate a San Babila e viceversa, anzi li collegava addirittura a San Felice perché aveva un petto di 73 barrata che arrivava fino a Segrate e poi alcune modifiche fatte invece su quartieri come Corvetto, come quartiere Porlanini verso la parte di Mecenate e via dicendo. Quindi quello che noi abbiamo chiesto il 6 di luglio con un documento votato all'unanimità da tutto il Consiglio. Quindi maggioranza e opposizione insieme, per una volta avete fatto contenti tutti, meno male. Sì, perché per una volta, e non dovrebbe essere la prima, secondo me nell'ultima, in questo mandato tutti lavoriamo in una direzione sola, che poi è quella dell'attenzione verso le persone e soprattutto in un contesto come quello municipale le differenze politiche lascia una volta il tempo che trovano. Sono differenze valoriali importanti, però. Ma Davide, non è che forse, forse qui salta fuori ancora il tema del fatto che voi non vegnate, ascoltati, prima di prendere decisioni e non sempre e solo dopo? Questo sicuramente è un tema anche perché noi conosciamo oggettivamente di più i quartieri e i tecnici della mobilità, ma per una questione empirica. Ma ovvio, infatti sì sì. Vendo la quotidianità e diventa che poi certe dinamiche si comprendano prima. Nel complesso delle richieste che abbiamo fatto c'è anche la volontà di dire potenziamo quello che è un trasporto pubblico che non esiste più, cioè se tu elimini in questo caso 73, devi potenziare il tram 27, devi avere un tram che sia giungo che sirio, cioè i due modelli, per cui uno è quello classico del tram di Milano e l'altro è quello col penale ripassato, perché inevitabilmente le persone con disabilità, le mamme con i passeggini, i papà con i passeggini, chiunque sia più in difficoltà deve poter accedere al trasporto pubblico locale con una facilità maggiore o comunque senza difficoltà e senza barriere architettoniche. Insomma il tema è sempre quello, ma secondo te Davide si arriverà a darvi, lo dico così proprio spudoratamente, un po' più importanza all'interno di questo comune, cioè i municipi riusciranno finalmente a diventare quel governo del territorio che, come dicevi tu, ma anche semplicemente per lontananza il comune centrale fa fatica a poter garantire, c'è poco da fare, 4.000 passavie in tutta Milano invece saranno solo 800 vie per il municipio, quindi è più facile amministrarle, o sono troppo semplicistico, troppo sempliciotto sono io forse? No, no, ma guarda, nel senso, ho sempre pensato e ho provato a pensarlo dai due punti di vista, cioè dal punto di vista dell'amministrazione comunale e dal punto di vista mio in questo caso è di chi con me lavora nel municipio 4 e nei vari municipi. Dunque il decentramento è un percorso essenziale, cioè noi abbiamo un assessorato che è quello di Gallia Romani che secondo me sta facendo un ottimo lavoro progressivamente e che va nella direzione di dare più responsabilità. È inevitabile che certe materie, certe tematiche, passami il paragone dal Stato centrale a regioni, da in questo caso al comune a municipi, anche se sono due contesti completamente diversi, è inevitabile che alcune materie rimangano in questo caso al comune. Noi auspichiamo che su alcune linee di spesa, su alcuni ambiti ci sia una maggiore autonomia, perché è opportuno che veramente si vada poi a lavorare e si dia più potere a chi effettivamente c'è, perché non puoi come giunta comunale, non può un gruppo più ristretto, ma anche di consiglieri comunali occuparsi di 1.300.000 abitanti, è inevitabile. Già noi facciamo una grande fatica, siamo in 31 come maggioranza e minoranza, tutto il gruppo che lavora in municipio 4 con una popolazione di 160-165.000 abitanti, rapporto di 1 a 5.000 diciamo, capisci che è già diventato complesso così, quindi inevitabilmente alcune materie devono essere stiamo appena delegate ai municipi e mi auguro che entro il 2027 ci sia questa volontà e secondo me ci sarà. D'altro canto però ci deve poi anche essere una progressiva, un progressivo ritorno di responsabilità ai politici, in questo caso parlo di giunta comunale e una deresponsabilizzazione dei tecnici, dei vari assessorati, perché secondo me la politica non la devono fare i tecnici, ma la devono fare le persone che sono state usate e che sono lì, che poi i tecnici abbiano una competenza specifica è inevitabile e meno male che se è così un assessore non può da solo occuparsi di una città così grande, però ecco cerchiamo veramente di ridare alla politica il ruolo e la centralità che merita e lasciamo ai tecnici quello che è la parte più diciamo di tecnicismi, di burocrazia, di attenzione a quelli meccanismi che il politico non può e non deve prendere in considerazione perché deve occuparsi di altri. Davide, quindi adesso le prossime tappe sono continuare a fare pressing? Sì, allora noi evidentemente poi noi a livello istituzionale non andiamo a manifestare nelle piazze, non comenziamo la rabbia dei cittadini, ma cerchiamo di trovare soluzioni concrete. Noi continuiamo a lavorare in dialogo con l'assessorato di Aranacensi per far sì che almeno si arrivi ad avere in questo caso la linea 73 fino a Viale Costi che Angolo vi accolve e che poi torni indietro diciamo in faccia capolina lì comunque che abbia lo stesso primo percorso che adesso la porti in Piazzello Video ma che ci sia la possibilità di avere un interscambio vero in Viale Portica. E poi ci battiamo anche, lo ricordo sempre, per altre linee quindi per l'interscambio 45-77 in Piazzello Video, per la coincidenza della 77 appunto nel quartiere di Corvetto, per la linea 84 in questione di com'era prima del 4 luglio, cioè noi continuiamo su questa strada convinti che il dialogo sia più produttivo e più efficace delle grida, delle urla al megafono in corso 22 marzo e continuiamo in questa linea. Chiarissimo Davide, allora vabbè buon lavoro, continuando in questo lavoro appunto a fianco dei cittadini, è bello vedere che tutto il Municipio 4 lavora appunto non tanto diviso dai colori politici ma invece unito dal volere e dalle necessità del propri cittadini. Quindi appunto regoliamo 165 mila abitanti, insomma praticamente un capoluogo di provincia quindi davvero complimenti Davide al tuo lavoro e a tutti i tuoi colleghi del Consiglio Municipale del Municipio 4 e anche degli altri municipi, che sa che noi Milano News sempre molto molto vicino ai municipi. Grazie mille Davide, buona giornata. Grazie a te e buona giornata a tutti e a tutti. Grazie mille ancora Davide Borghi, appunto consigliere del Municipio 4, beh seguite, seguite quello che avverrà perché ci saranno sicuramente degli sviluppi, noi ve lo racconteremo sempre qua su Crystal Radio qui a Good Morning Milano e sul nostro Milano All News dove potete rivedere tutto quanto in on demand, in differita come si diceva una volta, sito internet, twitch e anche youtube. E ora Cesare Cremonini con Chimica. 8 e 24 minuti, ancora qualche minuto in vostra compagnia, in nostra compagnia, perché insomma siamo qui vicino alla mezz'ora, ci manca veramente veramente poco e andiamo in pausa, anzi anzi mi fanno il cena della regia che già dobbiamo andare in pausa, come oggi andiamo in pausa prestissimo quindi va bene ok, faccio quello che dice la regia, faccio quello che dice l'ufficio programmazione e infatti diamo la linea allora a questo punto agli Imagine Dragons, loro con Symfony dal 2022, Imagine Dragons qui su Crystal Radio, ancora un po' di musica, una piccola pausa e poi siamo di nuovo qui con voi su Good Morning Milano. 8 e 32, le volete queste fragole? Fragole, Achille Lauro e Rose Villian, 8 e 32, Crystal Radio, Good Morning Milano, buongiorno a tutti milanesi e non all'ascolto, 3317853555 il numero di whatsapp a cui potete scriverci, a cui potete mandarci la vostra giornata, grazie di tutti i messaggi che ci avete scritto, è arrivato poi finalmente anche il messaggio dalla Puglia, come dicevamo prima sappiamo che c'è gente che ci ascolta dalla Puglia e ci hanno detto che qui in Puglia termocamino autogestito, non so cosa sia un termocamino credo sia una sorta di, credo la stufa a pellet, credo che sia quella roba lì ma non ne ho la conferma, ma non si accende il termocamino se la temperatura è superiore ai 16 gradi, quindi credo che l'accendano tipo il giorno di Capodanno forse neanche, comunque Milano si sa è più fredda e ai miei cari amici pugliesi forse una volta perché in questo momento comunque continua ad essere abbastanza caldo il clima Milano, un po' più freddo rispetto ai giorni scorsi e mi viene a dire anche fortuna visto che siamo al 23 di ottobre, ma pensate che oggi comunque la massima arriverà a 19 gradi, quindi insomma in questo momento ci sono intorno ai 13 gradi, quindi si alzerà nella mattinata ma soprattutto nel pomeriggio e all'intorno all'ora e 4, intorno all'ora e 16, si dovrebbe raggiungere il massimo, la temperatura massima di 16, 16, scusate 19, 19 gradi, ricordiamo appunto che i termosifoni comunque nel caso arrivasse ondata di freddo si possono già accendere appunto da ieri la delibera comunale che dà l'ok all'accensione. Che ci sia ancora un bel tempo e tutto lo testimonia anche ad esempio la corsa che è avvenuta domenica in un momento, uno sprazzo in cui c'è stato il sole perché poi ha piovuto, poi ha smesso, poi ha ricominciato, è stato un weekend alternato, un weekend bagnato su Milano, però c'è stata la Corribi Cocca, una marea rossa di 2.500 runner all'edizione speciale della corsa che raccoglie fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla, due i percorsi, ormai come quasi tutte le competizioni, tutti gli eventi e le manifestazioni podistiche che hanno a che fare con la beneficenza, due percorsi da 5 e 10 chilometri, tante famiglie e studenti in strada e come madrina Cristina Nuti, la prima donna con la sclerosi multipla in Italia e Europa e la seconda al mondo ad avere terminato un Ironman, cioè il suo primato, scritto così caro Repubblica, sembra che il primato sia che questa povera signora Cristina abbia la sclerosi, invece no, è la prima donna al mondo con sclerosi multipla ad aver vinto un Ironman, scusate, in Italia e in Europa, ad aver vinto un Ironman, scusate, faccio un po' di confusione, ho bisogno di Masieri, Masieri torna qui da me per favore, Masieri ho bisogno di te alle notizie, non posso fare tutto da solo, datemi una mano anche voi, ma soprattutto Masieri torna, torna, che mi manchi tanto, ah ci sono le elezioni è vero, sono un'ora e mezza che sono stati riaperti i seggi in quella delle Monza e Brianza, perché ci sono appunto le elezioni supplettive per il seggio al Senato che fu di Berlusconi, non possiamo dare ovviamente dati o cose, lo vedremo tutto questo, capiremo dopo le 15 della chiusura dei seggi, però un dato su tutti c'è, ieri sera alle 19 aveva votato solo il 12% degli avventi diritti contro il 58% del 2022, ricordiamo che avevano le elezioni supplettive, quindi si vota solo lì, c'è stato un po' di eco mediatica ma ben poco, tant'è che la notizia più importante è stata che la fascina è andata al seggio di Acro per le supplettive, che fu di Berlusconi appunto, quindi lei ha votato ma non ha rilasciato nessuna dichiarazione, dice sono qui per votare, semplicemente ha detto così, continuate a votare appunto fino alle Quilgi, si può andare a votare se siete appunto nella zona, ricordiamo Gagliani e Marco Cappato, i due che si contendono il seggio. Analisa con Ragazza Sola, bentornati su Cristian Radio, bentornati sempre qui a Good Morning Milano, la mattinata, il morning show milanese, sapete no che noi siamo il morning show della città di Milano e potete far parte di questo morning show questa mattina in versione un po' azzoppata perché appunto non abbiamo il mio fido scudiero, il mio fedele compagno di viaggio Lorenzo Masieri ma come sempre tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle sette alle nove il morning show della città di Milano qui su Cristian Radio e anche in diretta su Milano News ma soprattutto poi potete rivedere tutto quanto sul sito e sulla pagina YouTube e Twitch di Milano All News in diretta come sempre vi ricordo tutte le mattine dalle sette alle nove dagli nostri studi di San Siro. Si sta alzando il sole su Milano, almeno vedo entrare una luce un po' più giallina rispetto alle altre mattinate quindi vorrei dire che le nuvole che ci sono si stanno un pochino aprendo, prima c'era un bellissimo cielo a picorelle come si dice in questi casi che ahimè però può essere portatore di acqua a catinelle come dice il proverbio e quindi vedremo l'acqua, sembrerebbe che debba arrivare sulla città entro la sera, tra le 19 diciamo e le 22 dovrebbe scatenarsi quest'acqua ma non si dovrebbe scatenare l'inferno, c'è una pioggia leggera, una pioggia tollerabile oserei dire non insomma mai abbiamo paura, quando vediamo che potrebbe piovere un po' di spavento viene visto quello che è successo nel luglio e nell'estate scorsa, ricordiamo la notte tra il 24 e il 25 luglio la grande acquazzone che ancora oggi lascia i segni in giro per la città e si passa ogni tanto e si trovano situazioni particolari, pensate ieri sono andato in una casa che era un po' che non andavo a visitare di un amico che era tutto chiuso e entrando ci siamo accorti che c'era tutto il soffitto, lui abita all'ultimo piano, il soffitto completamente macchiato, erano mesi che non andavamo a vedere questo appartamento e ahimè ci sarà quindi da capire come mai, capire se il problema è sopra è sotto, se il tetto non è, insomma i segnali si ritrovano e si rivedono anche a distanza di mesi è stato veramente un'acquazzone, un uragano quasi, un tifone tropicale quello che si è abbattuto sulla città di Milano quella notte tra il 24 e il 25 luglio e che ha lasciato tantissimi tantissimi alberi per terra sradicando fili del tram, sradicando parti di Filobus 90-91 spaccando, schiacciando tantissime macchine, per fortuna nessuno era rimasto coinvolto, nessuna persona è rimasta coinvolta in questo disastro, meno male alle 4 di notte, insomma se succedeva qualche ora prima chissà come sarebbe potuto andare a finire, ma meno male guardiamo il lato positivo, appunto nessuno si è fatto male. Andiamo per avanti dopo con le notizie, ricordo appunto ancora che fino alle 15 ci sono i seggi aperti in quel di Monza per votare alle supplettive nel seggio del Senato lasciato libero da Silvio Berlusconi e potete continuare appunto ad andare fino alle 15 seggi aperti, quindi poi vi daremo noi i dati più avanti, magari domani per mattina capiremo e analizzeremo il voto, i candidati tra i due più importanti sono per il centro-destra Adriano Gagliani e Marco Cappato per il centro-sinistra. Sì, va avanti, siamo avanti con la musica, un classico della musica rivisitato da Tiziano Ferro qualche anno fa, sto parlando di Rimmel di Francesco di Rigori appunto, rivista qualche anno fa da Tiziano Ferro qui su Crystal Radio alle 8 e 43 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, continuiamo insieme. Fa le pagine chiare e le pagine scure e cancello il tuo me dalla tua vacciata, lo zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fosse stato un po' più giovane, ma inizia stato, dovrebbe poi spedirle a un indirizzo nuovo, e la tua faccia con che suoi, o farli rimanere buoni amici come noi. E quindi si riparte con le notizie invece, perché sapete che Good Morning Milano è notizie, inaugurata la nuova serie di TOG, Together to Go, è il nome dell'organizzazione Non Profit che appunto dal 2011 opera nel settore della disabilità, soprattutto gravi patologie neurologiche dei bambini, è stata appunto inaugurata questa nuova sede in Via Livigno con praticamente chiunque. Potremmo vedere da Repubblica Milano tutti coloro che c'erano, c'era Fedez, in primis Carlo Cracco, Lapina di Radio DJ e poi ovviamente De Benedetti da cui nasce la fondazione appunto Carlo De Benedetti, da cui nasce il progetto TOG e poi c'era anche, abbiamo visto Matteo Renzi, insomma c'era veramente di tutto e di più per un luogo importante a Milano dove appunto l'organizzazione Non Profit nata dalla fondazione Carlo De Benedetti ha questa nuova sede e l'area è in concessione dal comune e potrà assistere ben 200 bambini, quindi 200 bambini con malattie neurologiche che potranno essere assistiti diciamo dall'eccellenza del Non Profit italiano e in questo caso appunto anche milanese. La nuova sede appunto è sull'angolo, scusate, tra Via Livigno e Via Leienner dove pensate che fino a poco fa c'erano le docce pubbliche quindi rimane comunque una funzione sociale di un luogo importante all'interno della città di Milano che vede realizzarsi il progetto che ad esempio Fedez aveva utilizzato il concerto Love Me proprio per raccogliere fondi per questo tipo di iniziativa, anzi proprio per l'iniziativa della nuova sede di TOG che da oggi ha nuova sede a Milano. Abbiamo parlato di sicurezza e ahimè bisogna continuare a parlarne. Sul Corriere della Sera tra parentesi ne parla anche Gian Giacomo Schiavi che dice non siamo Gotham City ma serve una Milano migliore contro il virus di incilibilità. Dopodiché non siamo Gotham City ma poi il sindaco si fa l'autogol facendo la comparsa nel video del prossimo ritorno dei Club Doggo nel 2024 e dove impersonifica il sindaco di una città diciamo molto simile a Gotham City con un commissario Gordon interpretato da Carlo Santamaria. Vi invito ad andare su Instagram a cercare il video appunto di questa presentazione del ritorno dei Club Doggo nel 2024 e si vede appunto il sindaco parlare con un fantomatico commissario Gordon che punta il faro verso il cielo e al posto del logo del pipistrello di Batman per richiamare il supereroe della notte nella nostra città richiama i Club Doggo. Quindi non saremo Gotham City ma è interessante vedere che c'è comunque un rimando a Gotham City in un video in cui è presente anche il sindaco di Milano. Poi magari ne parleremo di questa svolta cinematografica del nostro sindaco. Insomma ci ha fatto diciamo sorridere vederlo comparire all'interno di questo video. Che ci sia un problema sicurezza e quindi in dubbio abbiamo sentito bisogna capire qual è. Tra parentesi c'è un problema sicurezza stradale perché un'altra notizia brutta arriva perché un taxi investe un pedone in piazza Tripoli a Milano. Gravissimo un 25enne che ora è in coma al Niguarda. Successo domenica notte appunto quasi in contemporanea con l'altro incidente che abbiamo visto prima su sui navigli. Insomma il problema esiste e continua a persistere. Hello Westing! If you love somebody, set them free! Alle 8 e 54 minuti quando ci apprestiamo ad avvicinarci appunto alla fine della nostra trasmissione. Saluto a casa che sicuramente non ci sta ascoltando perché ancora dormiente e malato il povero Lorenzo Masieri che appunto ringraziamo comunque per il grande lavoro svolto qui con noi e lo ricorderemo così. No 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 tornerà tornerà presto qui con noi sempre qui su Cristal Radio sempre qui su Good Morning Milano perché noi adesso ci salutiamo e ci sentiamo domani.